benvenuti tutti quanti per lavorare al meglio parleremo un attimo del patto didattico perché l'esperienza del corso online può essere nuova per molti di voi e alcune cose vanno dette perché un corso online è un ambiente protetto nel quale entriamo soltanto noi che ci agiamo e dall'esterno da internet non si vede come se fossimo in un'aula e tutti condividono solo ciò che avviene nell'aula virtuale ovvero nella piattaforma perciò non tutti possono sapere che cosa succede dietro le quinte allo stesso tempo tutti quanti hanno gli stessi diritti all'informazione come in tutte le comunità per lavorare al meglio insieme sarà opportuno fissare delle regole di comportamento dalle quali dovremmo essere tutti consapevoli dicevamo l'ambiente online online è un'aula chiusa e protetta nella quale gli elementi della comunicazione non verbali vanno persi ovvero gli sguardi i toni di voce dobbiamo stare attenti pensare che tutto quello che noi comunichiamo viene comunicato attraverso un testo scritto inoltre le parti gli studenti docenti i docenti i tutor devono conoscere bene i diritti devono conoscere i loro doveri e soprattutto i discenti gli studenti hanno diritto di conoscere quali sono i criteri di valutazione veniamo alla figura del corsista quali sono i suoi diritti e i suoi doveri il diritto di conoscere chiaramente quali impegni ci si attende da lui o da lei di avere una risposta alle proprie domande entro uno o due giorni di esprimere le proprie opinioni e di interagire con tutti gli altri partecipanti al dovere di conoscere le funzioni di base della piattaforma di rispettare gli impegni presi con il gruppo di leggere giornalmente i forum o avvertire in caso di assenze di completare tutte le fasi richieste per il superamento del corso e di essere rispettoso e pacato con tutti senza dimenticare che l'ambiente online ogni tanto in genera qualche malinteso. Adesso vedremo in maggior dettaglio questi punti. Il corsista ha il diritto di conoscere chiaramente quali impegni ci si attende da lui o da lei in maniera da poter organizzare la propria vita. Uno strumento utile a questo fine è il calendario del corso che riassume tutte le scadenze. Torniamoci sopra brevemente. Avere risposta alle domande entro 24-48 ore vuol dire che è bene sapere fin dall'inizio che la risposta arriva sicuramente ai problemi e alle difficoltà ma non può essere immediata. Normalmente arriva prima, ben prima delle 48 ore però è bene dare questo tempo perché non è detto che tutti siano sempre disponibili in piattaforma e quindi prendiamoci per tempo quando ci sono delle scadenze. Si ha il diritto di esprimere le proprie opinioni e di interagire con qualunque altro partecipante, non soltanto col partecipante del gruppo o con il docente. L'interazione tra pari in piattaforma è uno dei valori aggiunti, è estremamente importante. Inoltre è importante conoscere i criteri di valutazione, sapere come e in che modo si verrà valutati in base a quali criteri in maniera da organizzare al meglio il proprio lavoro. Il corsista ha il dovere di conoscere le funzioni di base della piattaforma. All'inizio verrà fornito un tutorial dalla webmaster e comunque avrete modo di guardarvi intorno. Quindi funzioni base che sono grosso modo il forum, come accedere ai documenti, come modificare il proprio profilo, sono cose che il corsista si deve prendere il tempo di apprendere all'inizio di quella che è l'avventura dell'apprendimento in questo corso. Al dovere di rispettare gli impegni presi con il gruppo. Gli impegni presi con i compagni di gruppo sono altrettanto importanti, se non di più, degli impegni di scadenze didattiche, perché assumersi l'impegno di svolgere un lavoro e dire al gruppo a un'ora dalla fine che non si è stato in grado di svolgerlo e non lo si svolgerà, come potete immaginare, inficcia il lavoro di tutti quanti. Inoltre bisogna tenersi informati. Leggere giornalmente i forum possono anche essere settati in modo che sia la propria casella di posta, ricevere i messaggi. e quindi se si prevedono delle assenze più lunghe, cercare di avvertire in anticipo, soprattutto i compagni di gruppo, ma anche i tutor, avvertire in piattaforma. Ovviamente il corsista ha il dovere di completare tutto il lavoro che gli è stato assegnato nei tempi. Nel caso in cui ci siano delle difficoltà, è invitato, come sopra, a comunicare ai tutor, ai docenti, ai colleghi e ai compagni di gruppo. Il gruppo ha il diritto di avere uno spazio riservato per lavorare, vale a dire un forum, uno spazio che sia esclusivamente loro e non di tutte le altre persone che fanno parte del corso, dove possono scambiarsi delle opinioni in maniera riservata. Allo stesso tempo ha il dovere di riportare regolarmente in piattaforma quanto è svolto soltanto fuori. Accade ogni tanto nelle esperienze online che le persone trovino degli altri modi di comunicare che non sono la piattaforma. Può essere un gruppo Whatsapp o essere una riunione Skype. Non c'è problema. L'importante è che quando viene assegnato un lavoro di gruppo, nello spazio del gruppo, una delle persone si prenda il compito, o più di una alternativamente, di riportare a che punto sono i lavori, in maniera da consentire alle tutor e ai tutor di intervenire eventualmente in maniera tempestiva nel caso in cui ci siano dei problemi. Un gruppo silenzioso quando il tutor, la tutor non sa che stanno lavorando è una situazione che crea allarme. Veniamo ora al tutor. Il compito del tutor è quello di facilitare la comunicazione tra i corsisti, tra di loro, e tra i corsisti e i docenti, e di assistere i corsisti nell'uso della piattaforma. Oltre a quello che è il compito della webmaster, che è strettamente helpdesk, qui parliamo di usare la piattaforma ai fini didattici del corso. Il tutor ha il dovere di dare un riscontro entro 24-48 ore alle domande dei corsisti. Come si diceva prima, hanno questo dovere perché hanno il diritto a stabilire dei limiti di reperibilità. Anche i tutor possono avere una vita personale e gli impegni del corso potrebbero non consentire loro di essere costantemente presenti 24 ore su 24. Anche se si torneranno, anche se facilmente ci sarà sempre qualcuno che risponde abbastanza velocemente, questo è il limite massimo entro il quale ci si può aspettare che rispondano. I criteri di valutazione per capire se il corso è stato superato o meno sono sia quantitativi che qualitativi. Quelli quantitativi significano aver svolto tutto il lavoro assegnato e aver partecipato regolarmente in piattaforma. Però questo secondo criterio ha anche, come si può facilmente capire, un aspetto qualitativo. Ovvero, aver partecipato in piattaforma non significa collegarsi un giorno e fare tutto il lavoro previsto e non farsi vedere mai più, ma essere presenti costantemente. Rispettare gli impegni presi con il gruppo e gli impegni del corso e soprattutto qualità della partecipazione. Ovvero che non vuol dire che stare tutto il giorno davanti al video, al computer che è collegato con il corso, con la pagina aperta, significa partecipare. Non è detto che partecipare significhi essere costantemente collegati, anzi abbiamo visto che le informazioni arrivano anche attraverso, l'abbiamo detto prima, anche attraverso la mail ad esempio, alla quale ci si può far mandare i feed dal forum. Paradossalmente si potrebbe partecipare anche senza collegarsi così tanto in piattaforma. Ma l'importante è che quando ci si collega per rispondere ai compiti e che lo si faccia, lo si faccia in maniera ragionata e pensata. Ovvero un post per dire, ehi, sono d'accordo anch'io, oppure a me non piace o sono qui e basta, esprime una qualità bassa, di base. I post più ragionati esprimono un altro tipo di qualità. Siamo giunti alla fine di questo percorso introduttivo e del patto didattico. Spero che sia chiaro a tutti quanti che cosa ci possiamo aspettare gli uni dagli altri. Per quello che non è chiaro si possono sempre rivolgere delle domande in forum ai tutor e ai docenti e per tutto il resto non mi resta che augurarvi buon lavoro.